L'evento, come diceva lei, è importante dal punto di vista sportivo e l'apparato di ordine e sicurezza pubblica che verrà messo in campo in maniera adeguata è fatto perché sia una giornata di sport. Nessuna particolare criticità, ma massima attenzione. Il quartiere Casale di Brindisi domenica prossima sarà blindato per la super sfida del campionato di serie D tra Brindisi e Cavese. Le oltre 6.000 persone previste nel Franco Fanuzzi hanno avviato la macchina organizzativa dei grandi eventi. Il questore di Brindisi, Annino Gargano, sta seguendo e coordinando con particolare attenzione le operazioni, forte sia dell'enorme esperienza maturata sul campo che di una particolare sensibilità sportiva. L'aspetto principale sul quale c'è attenzione e per il quale aspetto già sono state adottate delle misure organizzative, altre probabilmente verranno adottate oggi dall'Osservatorio Nazionale per le competizioni sportive in relazione ad eventuali limitazioni per la sola tifoseria ospite. E' quindi prevedibile anche per la tifoseria ospite un spostamento in massa che potrebbe comportare delle problematiche per l'ordine e la sicurezza pubblica. Poi ci sarà un'ulteriore riunione presso la prefettura di Brindisi e poi l'adozione dei servizi che prevederanno necessariamente anche l'apporto di reparti di rinforzo che verranno richiesti appositamente per questo incontro di calcio. Quindi ci sarà comunque il supporto anche delle forze di polizia da altre città? Sì, del reparto mobile della Polizia di Stato, in particolare proprio per dare maggiore presenza delle forze dell'ordine allo stadio e non soltanto, anche sui tragitti, sulle strade che conducono all'impianto sportivo.